veramente spettacolo puro 22 23 spettacolare questa sfida adesso riceve guantorena palla lontana dalla rete per le al murato da Matteo Piano 23 pari adesso si infiamma la partita si torna tutto in discussione 23 23 sull'uno pari adesso la Lube ha un po' buttato via il vantaggio e Milano in questo momento all'inerzia del match veramente Lorenzo mi batte un po' il cuore ti dirò veramente entusiasmante questa partita che emozioni Giorgio qui ancora De Cecco a cercare Reiklitski fermato dal muro nuova occasione per Milano Daldello a cercare nessuno regala la free ball Milano poi De Cecco deve alzare però guantorena per le al muro a tre muro a tre Milano ha una palla dal set 24 23 mamma mia mamma mia mamma mia che generazione avrei dato una tirata d'orecchio Daldello tra l'altro che aveva sprecato una palla di una difesa ottima di Milano però il muro di Matteo Piano si è rifatto sentire adesso fuori Leal dentro Marlon Iante Herrera questo il cambio di De Giorgi un punto fondamentale adesso per Milano 24 23 per andare sul 2 a 1 ricettione buona per me palla Simon ricettione di Balaso buona De Cecco palla per Reiklitski difende in qualche modo Milano poi Daldello a cercare dall'altra parte Ornauti il muro a due la tiene Guantorena gran difesa poi De Cecco a cercare il neo entrato che si fa murare ma Simon buona la copertura adesso questa rigiocata Murato di nuovo Murato di nuovo Marlon Iante Herrera e allora Milano chiude il set con questo grande muro 2 a 1 Milano ma che partita a cosa stiamo assistendo queste sono le emozioni della Super Rega e questo perché noi vogliamo al più presto i tifosi nei palazzetti perché queste emozioni solo la pallavolo le sa regalare